Ciao ragazzi, ciao a tutti e a tutti Allora, buongiorno, 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 buongiorno mi sono ben ripasata, adesso troppo comincio a fare un po' di polizia e poi ci vediamo per per prendere la mia camera, ok? Ok, faccio il letto, adesso, dai Ok, faccio il letto Eccomi Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc 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 Grazie. Ora vado a prendere gli streggi per spolverare dopo. Ora lascio la camera. È un po' dita. Ora lascio la fuori. Ora le faccio le succedere. Ora, ora lo faccio. Opo. Ora lascio la metallica. allora devo pulire come sono qua sono tutti però me lo posso per pulire a me a me a me a a a a a a Alla prossima 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 Quindi sono